Grazie grazie sicuramente sì giornalisti sono abbastanza fastidiosi fra l'altro no scherzo io ho ascoltato tutti quanti e devo dire che il pensiero il primo pensiero che mi viene è ma chi cavolo me lo fa fare di fare quello che faccio sinceramente proprio ma perché poi va bene il perché si sa perché perché ci piace perché è un'attività che piace a noi e che sappiamo piace anche ai corridori ai Giorgio Macchiavello Franco Colle di turno quando Maurizio mi ha contattato questo ancora l'anno scorso perché tutto questo processo sarebbe dovuto iniziare a estate dell'anno scorso proponendomi di fare questo convegno questo incontro cercare di capire anche a livello giuridico amministrativo e quant'altro qual è lo stato dell'arte sul trail running ha sfondato una porta aperta in qualità di organizzatore di membro fondatore dell'ITRA di ancora per pochi giorni membro del consiglio direttivo dell'ITRA questo è uno dei temi che più mi interessa perché sinceramente più si va avanti e più mi rendo conto che le cose stanno diventando difficili perché vuoi la pandemia vuoi che siamo tutti vittime della moda vuoi il numero di persone che si avvicina agli sport outdoor e soprattutto al trail running sta aumentando in una maniera impressionante ovviamente più ci sono persone più aumentano i rischi e di conseguenza più chi organizza deve pararsi perché non è possibile rischiare cioè io stamattina lui parlare diciamo ma porca miseria basta vado in pensione me ne vado proprio compro la casa al mare me ne sto lì vado in spiaggia non faccio più niente perché perché effettivamente da qualsiasi parte uno guardi un problema c'è sempre il rischio di rimetterci le penne cioè di 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 si rischia sempre tanto perché noi abbiamo avuto una storica battaglia legale nel 2016 la prima cosa che mi hanno detto gli avvocati che ci hanno seguiti in quella in quel processo allucinante che è stata la tutta la 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 che era il regale legale è stato nel diritto non c'è il bianco non c'è il nero ci sono tanti sfumatori di grigio allora uno lì dice e allora basta faccio più niente il respiro è fine cioè mi limito a stare lì a respirare la mia domanda è e la pongo a chi poi magari mi potrà dare delle risposte io sono consapevole di avere delle responsabilità in qualità di organizzatori ma chi partecipa alla mia gara sa di avere delle responsabilità io questo non ne sono sicura noi abbiamo avuto diversi anche luca cavoretto lo sa perché comunque noi viviamo in simbiosi per dieci giorni durante il torno in una stanza giorni e notte sempre sentiamo arriva di tutto di più domande richieste di aiuto o anche semplicemente lamentele polemiche quant'altro quello che io non so è se effettivamente effettivamente chi si iscrive a una gara di tre running quindi va a partecipare sa di avere delle responsabilità l'impressione che io ho che si il fatto che ci sia un evento organizzato faccia pensare chi ci partecipa di essere libero cioè ho un problema c'è un organizzatore che ci pensa mi sono perso ci sarà qualcuno che ci pensa cioè io non sono responsabile di quello che faccio l'anno scorso noi abbiamo avuto in presumo che tutti quanti lo ne siate a conoscenza il grosso problema l'ultimo giorno del tor de glasier del tor de glasier con questa tempesta di neve tra l'altro improvvisa che assolutamente non siamo stati in grado di eh nonostante puntualissime previsioni meteorologiche nonostante tutto quello ma è stato un qualcosa di molto più violento di quanto noi non ci aspettassimo per cui ci siamo ritrovati eh non soltanto dover fermare il tor de glasier ad annullare eh il il passaggio ma la trama ci siamo ritrovati con delle persone effettivamente in una situazione di rischio eh sulla ehm sul col del barassone sulla sulla dorsale che porta il col di barassone poi scende verso il Gran San Bernardo di notte ovviamente queste cose succedono sempre di notte ma è di giorno con vento forte eh tempesta di neve eh la nebbia che si sono rivolte a noi perché avevano delle difficoltà a eh proseguire sul percorso quello che noi abbiamo capito parlando durante questa notte con queste persone è che il tor de glasier è una gara eh non tracciata per poter eh fare il percorso del tor de glasier tu devi avere un navigatore GPS e essere in grado di seguire la traccia queste persone non erano in grado di utilizzare gli strumenti che avevano addirittura uno di questi ma dopo ore che eh discutevamo e io gli ho detto ma scusa prendi in mano il tuo GPS guarda la traccia in base alla traccia il puntino che ti identifica perché comunque sempre un puntino dov'è a destra a sinistra dov'è e lui mi ha risposto eh ma io non ce l'ho in mano ce l'ho nello zaino perché ho freddo le mani ora di fronte a una cosa del genere chi è responsabile se a questa persona succede qualcosa ecco questa è la domanda che io mi pongo io perché mi devo assumere la responsabilità di un altro che viene effettivamente impreparato ad affrontare quello che deve affrontare e io che strumenti ho per capire se questa persona è effettivamente preparata a fare quello io posso mettere delle condizioni posso dirti ehm darti tutte le informazioni possibili ma se le informazioni questa persona non le legge o se le legge in maniera superficiale o se ritiene di essere più bravo di quello che effettivamente è io quanta responsabilità ho tutta purtroppo perché a me viene data tutta la responsabilità allora la mia domanda è questo è giusto non credo eh mi sembra di aver manciato un bel sasso però secondo me noi dobbiamo a tutti gli effetti ragionare in questi termini perché eh se no alla fine non 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 si fa più niente la 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 cosa migliore sarebbe non 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 fare più niente dal canto nostro noi comunque queste persone che sono rimaste ehm che erano in difficoltà quella notte noi le abbiamo seguite per tutta la notte c'erano dei professionisti che le hanno seguite per tutta la notte hanno dato consigli abbiamo cercato di farli andare avanti o di ritornare indietro poi purtroppo le cose si 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 ehm si complicano perché poi c'è la stanchezza c'è il freddo c'è il panico ci sono tanti aspetti che poi diventano difficili eh da gestire la cosa è andato tutto bene li abbiamo recuperati tutti è intervenuto poi il soccorso alpino la mattina li ha riportati giù e e la cosa è andata tutta bene però noi non saremmo mai dovuti arrivare a quella situazione lì perché noi le nostre responsabilità le abbiamo riconosciute le riconosciamo perché comunque se avessimo eh preso delle decisioni diverse prima cioè le avessimo evitato di mandarli fin lassù prima eh questo non sarebbe successo quindi noi le nostre responsabilità le abbiamo analizzate e ne faremo eh tesoro bisogna vedere se chi è dall'altra parte e alcuni sinceramente hanno dimostrato di non essere perché i commenti che abbiamo ricevuto dopo non sono stati poi così eh non hanno dimostrato una presa di coscienza da parte di queste persone degli errori che hanno fatto loro la cosa è che comunque questa esperienza deve essere tesoro per tutti anche per chi si è trovato lì e per dire a tutta una di queste persone ha avuto il coraggio di riscriversi questa notte grazie che abbiamo rifiutato di riscrizione con questo concluso e vi ringrazio grazie grazie grazie